Oggi è domenica 28 febbraio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 28 febbraio 1990. Alle 2.50 minuti e 22 secondi, fuso orario dell'America orientale, dal Kennedy Space Center in Florida parte la missione spaziale STS-36. È la 34esima missione di uno space shuttle e il sesto volo per la navicella in questione, l'Atlantis. La missione si chiude con il rientro a terra il 4 marzo alla base aerea dell'aeronautica militare statunitense di Edwards in California. Oltre a questi dati e ai parametri orbitali di questa missione si sa ben poco altro. Il volo è infatti classificato top secret perché è svolto per conto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Per la particolarità della missione vengono anche sospese le abituali regole che vietano il sorvolo della Terra a determinate condizioni. Si sa che l'Atlantis mette in orbita un satellite. Alcune stazioni di osservazione amatoriali ipotizzano che si tratti di un satellite di ricognizione fotografica che assomiglierebbe al telescopio spaziale Hubble. Si sa anche che sull'Atlantis viene portato un cranio umano femminile rivestito di dieci strati di plastica che simulano il tessuto cutaneo. Dei sensori servono a misurare il livello di radiazione a diverse inclinazioni orbitali. Pochi giorni dopo il dispiegamento in orbita del satellite portato dall'Atlantis, degli osservatori spaziali vengono rilevati alcuni oggetti non classificati misteriosamente e comparsi in orbita dopo la missione segreta dello shuttle. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero che abbiamo nel cuore o chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri dodici minuti di oggi. Buona giornata.